Oggi ci troviamo ad Altino, in municipio, ad interloquire con il sindaco Vincenzo Muratelli ad un anno poco più dalla sua elezione a primo cittadino, un anno dove ci sono stati tanti fatti, tante iniziative prese da parte dell'amministrazione con sempre maggiori difficoltà visti i fondi sempre più risicati provenienti dallo Stato. Ma in definitiva com'è stato questo anno, sindaco? Allora intanto ringrazio personalmente la vostra emittente per aprire questi spazi attraverso i quali le amministrazioni comunali, le amministrazioni pubbliche, non solo ma credo l'intero territorio possa in qualche maniera far transitare messaggi anche di questo tipo, quindi rendi conti e non solo. Quindi io vi ringrazio della vostra presenza qui e ringrazio in modo particolare te Antonio per la tua cortesia, la tua disponibilità e consentimi anche di porgere un saluto ai miei concittadini a un anno poco più dalle votazioni, quindi dalle elezioni di questa nuova amministrazione. Come dicevi tu, momento molto particolare per le attività amministrative, per gli enti locali, impegnativo, momento diciamo così nel quale le difficoltà economiche che gli enti hanno vengono accentuate dalle difficoltà di carattere sociale che si manifestano all'interno delle nostre realtà comunali attraverso crisi del lavoro e soprattutto nel mondo giovanile. Quindi un anno impegnativo ma nello stesso tempo, diciamo così, un percorso all'interno del quale abbiamo raccolto anche delle soddisfazioni, come credo sia giusto che sia. È chiaro che un giudizio più obiettivo può essere dato dai miei concittadini alla luce di quelle che sono state le attività poste in essere in questo primo periodo. Consentimi, ecco, prima di illustrare un po' quella che è stata l'attività e quella che è la programmazione dell'ente comunale, di porgere un ringraziamento. Un ringraziamento alle precedenti amministrazioni che hanno preceduto la mia presenza qui nel comune di Altino, ai sindaci che mi hanno preceduto, perché credo che questo ente sia stato sempre ben amministrato. una stabilità, una solidità economica che credo, sono certo, è derivata da un'attenzione particolare degli amministratori che mi hanno preceduto. Io da cittadino di Altino ringrazio queste persone, questi amministratori che hanno, nel loro impegno quotidiano per l'attività amministrativa, sono stati attenti proprio a questo processo, a questa, diciamo, la gestione economica dell'ente. Una gestione economica attenta che però oggi, come dire, paradossalmente ci penalizza. Negli anni, diciamo, della finanza derivata, sostanzialmente i comuni riprendevano dallo Stato quello che erano le loro spese dirette. Quindi non c'era una fiscalità diretta dei comuni, ma quello che il comune spendeva veniva poi ristorato dal comune direttamente. Passato questa fase, nella quale poi abbiamo visto anche le conseguenze di questo processo, è successo che i comuni attenti, come il comune di Altino, si sono ritrovati ad avere, diciamo così, fondi di gestione più bassi di quelli di altri comuni. Paradossalmente, prima ti facevo vedere alcune schede, diciamo così, di previsione che vedono il mio comune fortemente penalizzato da questo punto di vista. Sostanzialmente il bilancio tra il fondo di solidarietà comunale che lo Stato dà ai comuni e quello che poi i comuni ridanno attraverso sia l'IMU, sia, diciamo così, il pagamento per i terreni agricoli, pone il mio comune con un saldo attivo di circa 27 mila euro. A differenza di comuni limitrofi, anche più piccoli del mio, dove questa quota di fondo di solidarietà che lo Stato ridà al comune assume, diciamo così, significati più ampi, mediamente intorno ai 250 mila euro. Questo è un problema, è un problema per l'ente, aggravato in questo momento anche dalla revisione di spesa. dobbiamo tenere conto che nel 2015, solo nel 2015, il Comune di Altina ha avuto un taglio di 70 mila euro. Sentivo sul tuo canale web alcuni sindaci che manifestano queste perplessità, queste difficoltà e qualcuno come il sindaco di Perano ha definito i sindaci uomini di trincea. È assolutamente vero, è assolutamente vero che i sindaci rappresentano l'interfaccia diretta con i problemi della gente e all'interno di questa relazione bisogna stabilire tempi immediati di risposta e questo è il problema forse anche maggiore. Mentre la politica nazionale ha i suoi tempi, la politica locale, gli enti locali, i sindaci, i comuni hanno questa necessità di dare nell'immediato prontezza di risposta, efficacia di risposta. E allora il problema di noi sindaci, sentendo anche i colleghi, anche i più esperti, è proprio questo. Molto spesso l'impossibilità, l'incapacità, diciamo dal punto di vista proprio operativo, di poter dare queste risposte nei tempi giusti. Dicevo prima, purtroppo la crisi ha aggravato questo problema, ha aggravato le situazioni anche all'interno delle amministrazioni comunali che si trovano oggi a combattere, oltre che con i tagli, oltre che con la revisione di spese e quant'altro, patto di stabilità, blocco delle assunzioni, si trovano davanti problematiche sociali che forse fino a qualche tempo fa non erano conosciuti, o comunque erano più sostenibili. Qui molto spesso i sindaci si trovano a dialogare con cittadini che hanno una difficoltà oggettiva di poter anche assolvere quello che è il pagamento del tributo. E di fronte a queste problematiche, derivanti principalmente dalla mancanza del lavoro, ci si sente veramente in difficoltà. Siamo diventati purtroppo molto spesso esattori. E questo è un ruolo che per un sindaco, ma per un qualsiasi amministratore, un ruolo oltre che scomodo, ma poco auspicabile, in senso poco difficile da compiere. Detto questo, detto questo problema della gestione economica, delle difficoltà, abbiamo in questo primo anno cercato di gestire con attenzione le risorse a disposizione. Abbiamo lavorato molto sulla gestione di quella che è l'attività ordinaria di un comune, in un momento, ripeto, di crisi, di problematiche economiche. Abbiamo anche però messo in cantiere una programmazione che adesso magari illustrerò con più attenzione. E abbiamo attivato, riprendendo insomma anche progetti che erano stati messi in cantiere dalle precedenti amministrazioni, quindi di cui non mi voglio prendere nessun merito, credo che sia giusto così. Abbiamo ereditato attività, diciamo così, che stiamo ponendo adesso in cantiere, che sono l'ampliamento della scuola primaria del capoluogo. Questo è un finanziamento richiesto dalla precedente amministrazione. Ci prendiamo il merito soltanto di essere riusciti a recuperare un finanziamento che a un certo punto sembrava perso per una questione di natura tecnica. Però ecco, l'idea è partita dalla precedente amministrazione, adesso i lavori sono già iniziati. Contiamo, spero, di poter completare questa attività, diciamo così, di ampliamento entro l'inizio del prossimo anno scolastico. Abbiamo ereditato la realizzazione di un museo, diciamo, sulle arti contadine che inaugureremo il 4 di luglio, diciamo così, che riprende un po' la tradizione contadina locale innestandola su quello che è poi il nostro prodotto, diciamo così, più conosciuto, l'oro rosso, il peperone dolce di Altino. Quindi un museo tematico su questi aspetti che inaugureremo proprio sabato 4 luglio. Abbiamo quindi ereditato queste attività dalla precedente amministrazione e abbiamo posto in esse alcune attività anche di programmazione che vanno, diciamo così, dal... abbiamo completato, abbiamo, diciamo così, riammodernato un po' l'arredo urbano facendo degli interventi a fine anno scorso, fino al 2014 e stiamo lavorando adesso sulla possibilità di cantierare o comunque di programmare la realizzazione di attività che vanno dalla riqualificazione di alcuni punti delle nostre contrade, del nostro centro storico, ad attività più generali che riguardano altri aspetti legati intanto al, diciamo così, al piano regolatore. Siamo in procinto di definire, diciamo così, l'iter conclusivo di un processo iniziato da molti anni, affideremo adesso l'incarico di conclusione di questo lavoro per la revisione del piano regolatore. Questo era un impegno, diciamo, che come amministrazione avevamo preso e stiamo completando l'iter, ecco, per completare l'incarico. All'interno di quelli che sono i risultati conseguiti abbiamo acquistato un nuovo scuolabus comunale attraverso un finanziamento regionale con, diciamo così, il pagamento solo del carico IVA a carico del comune, quindi una quota intorno ai 16.000 euro. Abbiamo un nuovo scuolabus comunale per il trasporto, oltre che scolastico, ma anche di servizio locale per la disabilità e per le funzioni sociali, diciamo, all'interno della viabilità e del servizio urbano interno. Quindi, piano regolatore, per il cimitero abbiamo, diciamo così, fatto dei lavori, diciamo, di riqualificazione interna, tra questi anche la chiusura automatica del cimitero, e delle porte del cimitero, e adesso stiamo lavorando sull'ampliamento. Diciamo così, un'esigenza che era stata già colta dalla passata amministrazione, sulla quale noi però siamo tornati, caratterizzandola, diciamo così, e modificandola un po', revisionando un po' quelle che erano le idee della passata amministrazione. Stavo dicendo, quindi, stiamo preparando delle attività programmatiche relativamente al centro storico, di riqualificazione, di ultimazione dei lavori di riqualificazione del centro storico, e stiamo programmando interventi sulla viabilità della contrada selva in ingresso, stiamo predisponendo, diciamo così, un progetto per la realizzazione di una rotatoria di ingresso nella contrada selva, sulla quale incompe un traffico veicolare che dalla Val di Sangro torna nelle zone interne e che soprattutto in alcune ore della giornata risente, diciamo, di una criticità viaria. Stiamo lavorando e vorremmo, insomma, dare anche realizzazione a questo sogno che è quello di realizzare a selva un centro selva, un punto di aggregazione per i giovani, e quindi un luogo di socializzazione all'interno di questa contrada. Stiamo lavorando per il miglioramento di alcune situazioni viarie molto critiche, tra queste l'accesso della contrada scosse, una situazione che a me sta particolarmente a cuore, sulla quale stiamo lavorando per poter determinare anche delle relazioni e anche con enti superiori per poter sistemare questo accesso, che da sempre, diciamo, così si caratterizza per una forte criticità, anche perché poi è l'accesso che abbiamo per l'oasi di Serranella. Quindi viabilità interna delle contrade, soprattutto una riqualificazione. Dobbiamo completare, abbiamo redatto un primo piano di intervento per la pubblica illuminazione, che va da un'implementazione e quindi da un completamento di alcuni tratti ancora non serviti. Siccome so, Antonio, che tu sei molto vicino a questo settore, ho a cuore, diciamo così, molto, mi sono posto come obiettivo quello della sistemazione dell'impiantistica sportiva di Altino, che tu conosci, sulla quale non torno, che però deve avere, spero, in questo mandato amministrativo una soluzione, perché abbiamo una situazione che tu, come ho detto, ben conosci, di forte criticità, sia nell'utilizzo, nella gestione di questa impiantistica, soprattutto del campo sportivo, che vorremmo risolvere. Abbiamo attivato con i canali della Regione procedure per poter sistemare questa situazione annosa. Accanto a questa programmazione, che chiaramente risente di questo momento economico particolare, ma che stiamo, come dire, sostenendo anche con interessamento della Regione, non solo, per un amministratore, e in questo caso, nel mio caso particolare, in questo anno amministrativo, mi sono trovato di fronte a un problema, diciamo così, molto importante, un problema che mi ha coinvolto molto, non ha coinvolto solo me, ha coinvolto un territorio, e che è quello che riguarda il problema dei servizi essenziali, riferito agli uffici postali. Abbiamo avuto un provvedimento di chiusura dell'ufficio del capoluogo, l'abbiamo in qualche maniera, diciamo così, con un Consiglio Comunale abbiamo adottato una delibera contro questo provvedimento, ci siamo battuti insieme ai sindaci di questo territorio, faccio riferimento ai sindaci di Perano e non solo, quelli più vicini, perché questo non accadesse. C'è stata una sospensione di questo provvedimento, e posso ancora assicurare la mia cittadinanza che mi batterò personalmente per questo problema, credo che insomma sia fondamentale, soprattutto nel capoluogo, salvaguardare questi servizi per far sì che queste comunità, soprattutto quelle che risentono di uno spopolamento, queste situazioni non vengono accentuate proprio dalla mancanza di questi servizi. Altre attività, altre iniziative sicuramente, diciamo così importanti, le stiamo portando avanti nella quotidianità, abbiamo attivato, diciamo così, dei processi di intervento, di manutenzione all'interno delle scuole, di riqualificazione. A tal proposito abbiamo introdotto all'interno del bilancio scorso la possibilità di riconoscere il merito scolastico, rinnovo attraverso il canale di WebTV la sollecitazione ai ragazzi perché abbiamo messo sostanzialmente un premio di riconoscimento al merito scolastico per i ragazzi della terza media del nostro comune che verrà, diciamo così, rappresentato da un piccolo contributo, da un modesto contributo che servirà a sostenere i futuri studi per questi ragazzi. Quindi l'invito ai ragazzi, in questo momento di impegno scolastico, di esame, a far sì che possano raggiungere questi obiettivi affinché poi l'amministrazione possa riconoscere a loro questo merito. In conclusione, perché poi alcuni aspetti andrebbero maggiormente approfonditi, sicuramente ho trascurato qualche aspetto, però credo che abbiamo colto un po' quelle che sono le problematiche, quella che è la programmazione a cui stiamo pensando per poter migliorare questo Paese. È chiaro che ci avviciniamo, siamo alle porte del periodo estivo e quindi uso magari lo strumento anche televisivo per dire che apriremo il nostro cartellone, piccolo cartellone estivo, il 27 di giugno con la manifestazione Un mondo a tavola, quindi invito tutti alla partecipazione. È un evento che si svolgerà a Selva di Altino, in Piazza Talone. È un momento di riflessione anche, un momento particolare, attraverso anche il cibo, attraverso la degustazione di questi piatti che poi le varie nazionalità prepareranno, un momento di confronto, di relazione, che crediamo, e questa è un'edizione, insomma, è una manifestazione che da anni che svolgiamo a Altino possa rappresentare veramente anche un momento di riflessione più ampio su quelle che sono le problematiche che impegnano le nostre comunità, non solo nazionali ma anche locali. È chiaro che dal 27 di giugno poi ci saranno altri eventi anche nelle contrade e poi chiudiamo con l'evento clou che è quello poi che chiude le nostre manifestazioni estive ed è rappresentato dalla manifestazione del Festival del Peperone Dolce che si svolgerà il 21 e 22 agosto presso il Centro Storico. È una manifestazione ormai che è conosciuta non solo a livello regionale ma abbiamo avuto anche, come dire, delle richieste a livello nazionale di partecipazione che attraverso un prodotto della nostra terra ha creato le condizioni per poter determinare nella nostra piccola comunità in questo periodo in cui si realizza questo festival la partecipazione di un gruppo di turisti abbastanza sostenuto. L'anno scorso abbiamo avuto circa 8.000 presenze questo lascia intendere quanto questa manifestazione ormai sia radicata all'interno un po' di tutti i cartelloni estivi non solo locale ma anche del territorio. Io concludo qui dicendo questo è chiaro che fare attività amministrative in questo momento è molto difficile è difficile un po' per tutti è un momento particolare, l'ho ripetuto più volte dal punto di vista economico e sociale però spero, ecco, alla fine del mio mandato l'auspicio che mi sono posto, l'obiettivo che mi sono posto è quello di poter lasciare un paese, come dico io, più bello di come l'ho ereditato.